Ciao amici, oggi parliamo di beccaccia, caccia da beccaccia, la caccia da me è principalmente per diletta, la pratico con le mie due cagnoline, due bretto. Lei è stata la prima beccaccia trovata da Lancia, la mia bretuccina che adesso scioglie due anni e mezzo ed è stata anche la mia prima beccaccia che risale già qualche anno fa, è un bellissimo esemplare di Scuolo Pax Rusticola che da noi è la beccaccia che si trova, abbiamo molte possibilità di trovarla, possiamo trovarla in qualche altra pigmentazione a livello di piume, però diciamo che principalmente in Italia si trova solo questo tipo di beccaccia, poi andiamo in altri stati, in altri paesi, soprattutto in America si trovano altri tipi di beccaccia, però non è questo che voglio parlare oggi, oggi voglio parlare di come si approccia la caccia alla beccaccia, di come si sviluppa una caccia alla beccaccia e darvi qualche consiglio su dove trovare possibilmente una beccaccia. Io abito in provincia di Milano, quindi voglio specificare che in questo periodo attualmente siamo in lockdown, quindi la mia zona è in zona rossa, anche se a breve nel titolo di due o tre giorni dovrebbe diventare zona arancione, quindi potremmo avere la possibilità di tornare a caccia. Io sono uscito adesso circa un'ora mezza fa e l'ho trovata, l'ho trovata con la più piccolina, con Zara, che è l'altro secondo cane che ho. L'ho trovata molto nervosa, infatti mi è partita su una ferma d'alcare da 60 metri, diciamo che da me c'erano circa 20-25 metri, quindi appena sentito ad avvicinarsi del passo pesante, ho sentito che mi stavo avvicinando, lei alza dei tacchi e se n'è andata. È un bosco dove l'ho trovata oggi, un bosco che so che è lì, in questo periodo qua si trovano. Fortunatamente in questo periodo c'è da dire che non fa ancora molto freddo, quindi non è ancora arrivato quella girata forte che ce le porta via. Infatti il bosco si presenta con un bello stroppo di foglio morbido, c'è un bel terreno morbido sotto. Poi abbiamo la fortuna che questo bosco ve la praticuta, ve la caccio io e questo è un consiglio, cercate sempre ai boschi che ai suoi lati o dalle sue estremità possano esserci dei campi di incolto, dei campi comunque dove c'è molto verde. Infatti il campo che entra in faccia davanti al bosco è un campo arato da poco, dove è già cresciuto un'erba medica molto bassa, si parla di erba medica di 5-6 cm, quindi la beccaccia tende ad andare lì anche durante la notte a pasturare e poi ad entrare nel bosco. Poi la fortuna di questo bosco è che sia a est che a sud ci sono altri due boschetti che di solito quando mi parte lì è facile che la trovi rimessa in altri boschi. Da lui si dice che la beccaccia fa il 7, si dice che fa il 7 perché la beccaccia tende a partire e andare sempre avanti, quindi ricerca sempre di andare a nord, poi prende sempre a est e torna a sud, quindi molte volte la beccaccia anziché andarla a ricercare davanti deve andare a cercarla lì a fare le spalle. Non è legge questo, logico, sono detti, però molte volte funziona, infatti io più di una volta, considerando anche le rimesse che ho a est e a sud di questo bosco quando io lo prendo in testa, mi cambia di trovarla e lei mi parte sempre verso nord e poi mi si butta sui boschi che ci sono a est e poi se la vado a ribattere sul bosco di est ve ne faccio rimesso su quello che c'è a sud. Quindi sono, diciamo, tre boschi molto vicini dove tra di loro ci sono 3-400 metri di campo arato, colto, ci sono delle stoppie, c'è un maestagliato, dipende, però il bosco è quello. Attualmente è in ottimo stato il bosco perché c'ha degli alberi che permettono l'arrivo dalle beccacce, sono boschi che prediligono, nel senso che sono boschi che presentano dei castagni, dei fagi, delle querce, dei carpini, qualche vetulla, uno strato di foglie molto molto grasso che è la beccaccia agliace, un terreno molto morbido, molto umido, quindi la beccaccia ci va a nozze, abbiamo qualche tronco per terra buttato, qualche albero tagliato lasciato per terra marcire, quindi tutti i fattori che la beccaccia aiutano. Quindi queste cose che vi sto dicendo, tenete in considerazione se dovete cercare una beccaccia. Cercate un bosco che, come vi ho detto prima, ha la possibilità di dare copertura e riparo alla beccaccia, ma nell'immediato deve dare la possibilità di mangiare. Poi, se avete la fortuna che ho io, fino a un mese fa c'erano giù delle mucche a Pascolo, non per niente, di solito la beccaccia in montagna si trova vicino ai pascoli di mucca perché la beccaccia tende ad andare a beccare vicino alle fatte di mucca. Naturalmente quella che ho trovato io oggi, che spero di ritrovare a breve, era una beccaccia molto nervosa. Come ho detto prima, la beccaccia nervosa può essere dovuta al fatto che i cani di molta gente che va a passeggio, o la stessa gente che va a passeggio, o qualche ancora volenteroso che cerca funghi, la disturbino. quindi non ce ne sono tante, nel senso, è quella o domani torniamo potremmo ritrovare la stessa come potrebbero essercene due, però ecco, non è detto che mangi esco da troppo, però diciamo che se c'è, in questo momento molto volentieri sono disturbati da questi fattori. danno pioggia, danno pioggia sabato e domenica, se tutto va come dovrebbe andare, sabato si potrà tornare a caccia, ma danno pioggia tra sabato e domenica potrebbe essere un fattore positivo, perché la beccaccia potrebbe trovare riparo, stare ferma, come potrebbe andarsene e potrebbero anche entrare altre beccacce, quindi è tutto un punto di domanda. Io personalmente la caccia e la beccaccia, parliamo di fucile adesso, la pratico con il mio fucile, un Ilditz, in calibro 410 sovrapposto, in prima canna ho uno strazzatore da 5 stelle e in seconda canna ho uno strazzatore da 3 stelle. Io non sono come quelli espertoni che dicono che 410 bisogna sparare con un 2 stelle e una stella, sì, sarebbe etico, però se stiamo andando a caccia di beccaccia in paloni un bosco, sparare con un 2 stelle e una stella, a parte che se la prendi vicino la distruggi, la beccaccia si sa delicata, basta anche un pallino, la si tocca, viene giù, quindi preferisco avere una rosata molto larga, considerando anche la mole di pallini che c'entrano nel campio c'è 410, che non è così elevata, quindi diciamo che comunque questa rosata è molto larga, è anche più facile sbagliarla perché tra un pallino e l'altro c'è molto distanza lì, però abbiamo una copertura da tipo un po' più larga, quindi lì dove andiamo a sfondare, come arrici parte dentro dai ragni, andiamo a sfondare sui ragni, è facile che qualche pallino lo prenda, invece se spariamo con una stella o due stelle, è facile che se una si prende, la si distrugge, come è facile anche sbagliarla perché la strazzatura è molto più stretta, ricordiamoci che la beccaccia si caccia dentro il bosco, quindi io predivigo questo tipo di caccia alla beccaccia, a parte che con il canno a ferma la pratico praticamente ormai solo con 410, logico che se sono in un campo arato, all'aperto, nel pavese, tra tesaglie, a cercare i beccaccini, mi porto lunghi e allora lì opto anch'io per un due stelle e una stella, tiri lunghi, a 30-40 metri e ci provo, però se vado a beccaccio in un bosco io prima canna opto sempre per le 5 stelle e in seconda canna un tre stelle. Parliamo di cartucce, con che cartuccia io pratico la caccia alla beccaccia, col carico 410, sono oresto, ne ho provate tantissime, è l'unica cartuccia che veramente mi ha dato delle grandi soddisfazioni, ho provato a prenderla anche con altre cartucce, però attualmente è quella che preferisco di più di tutte, è lei, è la Fiber 410, è una cartuccia con borra in feltro, diciamo, è una delle poche cartucce che c'è per il 410 per chi vuole praticare la caccia alla beccaccia, perché è una cartuccia che è studiata per la Nicola Migratoria, anche se in questo caso, come la predilico io, in più un bot, in più un 9, la uso per la caccia alla beccaccia. È una cartuccia molto buona, è una cartuccia molto 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 performante, io mi trovo da dio, se avete la possibilità di provarla, provatela, perché veramente ne rimarrete soddisfatti. Io la uso solo per la caccia alla beccaccia, mentre la visco la caccia al beccaccino, tendo ad usare una cartuccia con borra contenitrice, quindi uso le classiche cartucce di casa a fiocchi che sono ottime, per oggi è tutto, io vi auguro di tornare presto a caccia, ma chi lo sta facendo, abbiati voi, sempre uniti, sempre amanti la nostra passione, che è una grande grande cosa. Quindi un buccanico a tutti e un saluto. Ciao.